dados.it Inizia Revisore Revisore Quando ero adolescente feci una cosa che molti liceali fanno, provai a leggere Siddhartha. E dico provai e non lessi, perché il mio interesse, per quell'animo inquieto, durò giusto lo spazio della nota introduttiva, oltretutto scritta dal traduttore italiano. Nelle prime righe della nota ci si sofferma su una parola che diventa fondamentale per me e per la comprensione dell'intero romanzo, ma in generale per il mio percorso. Der zu Hände è una parola tedesca che significa colui che cerca. Nelle prime righe il traduttore italiano designa quegli uomini con questa parola che non si accontentano della superficie delle cose, ma vogliono, ad ogni aspetto della vita, ragionando, andare in fondo per capire meglio loro stessi il rapporto che tra loro e il mondo intercorrono. Sono parole e temi che quasi la totalità di noi, quasi sempre nell'adolescenza, sente come fondamentali. E forse è per questo che Siddhartha viene ricordato come uno di quei libri dell'adolescenza, uno di quelli che citiamo, anche senza averlo letto, non che io non l'abbia letto, ma indubbiamente la prefazione è la parte che ho preferito. C'è poi un altro riferimento fondamentale, ma che a differenza del rapporto travagliato con Siddhartha rischia di relegarmi ai margini delle statistiche sui trend topics dell'adolescenza, dalla matematica. Iniziai a preferire i libri di matematica a tutti gli altri, con buona pace, di Eroman S, quando scoprì la storia del Nautilus, un mollusco, anzi il mollusco per antonomasia. Il Nautilus è uno dei rarissimi esseri viventi riuscito a sopravvivere dai tempi dei dinosauri ad oggi. E non sopravvisse per delle doti particolari, ovviamente poco più di una lumaca, ma per la forma della sua conchiglia a spirale logaritmica. Potevamo tranquillamente darlo per estinto, ma in realtà lui è ancora lì, dopo millenni, potremmo dire in lockdown, ma sereno. Se ricordo ancora l'incipit di un libro che ho finito a stento, è grazie alla conchiglia del Nautilus, è grazie allo stupore che provai davanti alla sua conchiglia. Lo stupore che io provai è lo stupore di un sukende, di qualcuno che cerca. Nel mio caso, in frammenti di formule, qualche chiave d'ingresso per comprendere più nel dettaglio il principio unificatore di un equilibrio che, anche se non sempre lo vediamo, sappiamo esistere. Nella vita di tutti i giorni, osserviamo e misuriamo cose. Il concetto di proporzione, intesa come corrispondenza di misura tra due o più elementi in rapporto reciproco, dette in parole più semplici, una linea di divisione che separa il sopra dal sotto, il numeratore dal denominatore, non è strano a nessuno dei nostri più quotidiani calcoli, ma la nostra mente, quando diciamo proporzione, va un po' oltre. Attribuisce in maniera automatica un connotato degli attributi di armonia, rigenerazione ed equilibrio, una cosa proporzionata, ci sembra qualcosa che vada oltre ad una linea di frazione con un numeratore, o un denominatore. Ma in realtà, quando la nostra mente fa questo collegamento spontaneo di significante, si sta riferendo ad una accezione ed una eccezione precisa di proporzione. L'hanno scoperta e riscoperta, battezzata e ribattezzata, golden section, golden proportion, divine proportion, sacred cut, sezione aurea, proporzione aurea, ma il valore è sempre 1. 1,6, 1,8, 0,3, 4. Così ricorrenti in natura che gli hanno attribuito i matematici una delle lettere dell'alfabeto greco che è Phi. Se i numeri e le astrazioni possono essere fastidiose o, diciamo, ostili da cogliere, possiamo fare qualche passo insieme. Cos'è una proporzione in generale? 4 euro sono ad un chilo di castagna e come 10 euro sono a due chili e mezzo di castagna. Niente da dire, 4 diviso 1 uguale a 10 diviso 2.5. Seppur nulla tolga al nostro fruttivendolo di fare un'offerta di questo secondo tipo, non è una proporzione matematica dire che 4 euro stanno ad un chilo come 10 euro stanno ad un chilo e mezzo di castagna. Ovvero 4 diviso 1 non è 10 diviso 1.5. Ma non tutte le proporzioni corrette come la precedente sono auree. Non percepiamo l'infinito dal calcolo di prima. Proporzione aurea è quella proporzione tale per cui A diviso B, ovvero C diviso D, è uguale a 1,618034, ovvero Phi. Millenni di calcoli e di osservazioni hanno portato a scoprire nelle distanze la sezione aurea più frequente che in tante altre cose. Millenni di esercizi, infatti, hanno visto l'uomo capire qual è il punto preciso, il punto aureo in cui dividere in due un segmento. Si è scoperto che il punto preciso in cui dividere in due un segmento è quello tale per cui si rispetta la proporzione in cui il tutto sta al grande come il grande sta al piccolo. L'intero percorso sta alla parte più lunga come la parte più lunga sta alla parte più corta. Scritto in matematichese abbiamo A più B diviso A è uguale A diviso B. Riducendo i termini e sostituendo Phi per semplicità, risolviamo l'equazione di secondo grado e otteniamo Phi, 1,618034. Tutto chiaro? Immaginate allora lo stupore che provarono i matematici ancora prima di fare questi calcoli, perché i calcoli vengono dopo, quando scoprirono che la distanza delle labbra di una donna dal suo mento è A quando la distanza dei suoi occhi dalla sua bocca è B o quando scoprirono che solo il DNA dell'uomo c'ha Phi o Phi lo ritroviamo in tante cose che ci contraddistinguono. Ma io torno a pensare allo stupore dei biologi. Quando scoprirono che l'unico essere riuscito a sopravvivere dai dinosauri ad oggi è una lumaca e non sopravvisse per doti speciali di lumaca ma per la struttura della sua casa a spirale logaritmica da non confondere con la chiocciola. Perché è speciale? Il Nautilus ha costruito nel tempo una casa che gli permette di vivere sempre nella stanza più piccola e spostarsi nella stanza successiva, più grande quando non è pronto. Questo gli permette di avere sempre il suo baricentro in equilibrio. L'asse di rotazione resta invariato, aumenta solo il raggio. E grazie a questo sentirsi sempre nella dimensione in cui lui si sente bene e gli dà la forza per sopravvivere alle più grandi catastrofi. Sicuramente la natura è tutt'oggi la prima ad approfittare della perfezione aurea delle distanze. Ma anche vari interpreti sublimi, noi uomini apparteniamo anche noi alla natura, siamo stati in grado, spesso, forse anche inconsciamente, di creare delle meraviglie, interpreti sublimi di questo fi, come per la piramide di Cheo, per il Partenone, il Duomo di Milano, la chaise longue di Le Corbusier, la musica dei più grandi. Finora abbiamo parlato di sezione aurea nelle distanze ed effettivamente è una delle cose che più sorprende. Ma la proporzione aurea c'è anche nei disegni vorticosi, nei movimenti caotici, nei disegni organici della natura. Leonardo Fibonacci scoprì una proprietà molto bella di una serie numerica, una serie che si costruisce sommando i due numeri che precedono, 55 uguale a 34 più 21, 13 uguale a 8 più 5 e così via. Ma la cosa speciale di questa serie numerica è che per quanto avanti si vada si troverà sempre un nuovo numero all'infinito che si è diviso per il precedente di a fi. Provate. 34 diviso 21 fa fi, 21 diviso 13 fa fi, qualsiasi numero diviso per il precedente da fi. Bello. Ma dove sono i disegni organici della natura? Dove sono i moti vorticosi? Dove è il caos? Provate a contare i petali dei fiori, i rami di un albero, le insinature di una costiera, il proliferarsi dei conigli, il numero delle spirali di una conchiglia, i vortici di un uragano, i disegni dentro i vostri occhi, le braccia dei fiocchi di neve sono sempre 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Non se ne scampa. e si potrebbe dire ne traiamo solo un fiore di estrema bellezza dal fatto che i petali siano sempre in equilibrio. Diversamente però la potrebbe pensare un'ape che grazie a questa corolla trae il nutrimento. se parlare della perfezione tra la distanza degli occhi di una donna, la sua bocca e il suo mento potrebbe sembrarci quasi giustamente una velleità, altra gratitudine dovremmo riservare a questo tendere verso la perfezione considerando che permette lo sviluppo dei nostri embrioni, oltretutto nati con gli stessi moti vorticosi delle più grandi galassie. Innumerevoli altri sono i casi che se studiati portano a scoprire che dietro alle cose più equilibrate quelle che non riusciamo a spiegarci così immediatamente c'è un unico segreto in perituro FI 1,618034 veramente sono rari i casi in cui non ci sia solo lui dietro. Ma qual è il significato più sottile di FI? Di cosa dovremmo essere in grado capaci noi uomini se una lumaca è riuscita a sopravvivere grazie alla sua conchiglia ai dinosauri? I suhende siano loro uomini di musica uomini di scienza tendono tutti a riconoscere l'estrema potenza della correlazione tra il grande e il piccolo tra l'intero e le sue parti frattalico dicono i matematici ovvero il tutto sta al grande come il grande sta al piccolo si riassume nei libri di sezione aurea tutto qui ma se per il tutto a cui è chiaro che abbia contribuito qualcuno di molto infinitamente molto più grandi di noi la costruzione dell'equilibrio per il grande e per il piccolo dovremmo sentirci noi uomini alla tastiera in una tastiera i tasti iniziano i tasti finiscono infinita è la musica che su questi possiamo suonare ci direbbe qualcuno e la lezione che io ho imparato da mollusco dalle corbusier da un albero di fatto è questa scegliere una tastiera troppo grande dove non c'è musica che noi sappiamo suonare è un alibi alla nostra inettitudine è un alibi a non dover intervenire su noi stessi sul mondo e sui rapporti che tra noi e il mondo intercorrono se ci è dato disegnare una sedia ricordiamoci che potremmo farlo come le corbusier se ci è richiesto di disegnare e progettare una pista ciclabile facciamolo immaginandoci i nostri figli pedalare lungo il suo percorso se non possiamo intervenire sulle date degli accordi del COP26 chiediamoci se già noi oggi stiamo prendendo nel nostro campo la scelta più sostenibile se ci è data la fortuna di avere un bambino ricordiamoci di dedicargli il tempo per imparare la vera gentilezza e se ci è data la facoltà di votare ricordiamoci di non scegliere chi sa imitarci ma chi ha il coraggio di guidarci anche correndo il rischio di perderci in millenni di anni la matematica non ha fatto altro che portare alla luce per noi uomini frammenti di un unico segreto imperituro per contribuire all'armonia alla rigenerazione all'equilibrio dobbiamo sentirci parte attiva di questo interminabile spettacolo in cui il tutto cura il grande come il grande cura il piccolo e sarebbe d'accordo penso anche Siddhartha grazie 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 grazie